Ragazzi in questo video oltre a due belle belle partite faccio un discorso a cui tengo davvero tanto Quindi mi farebbe piacere che lo ascoltasse davvero con interesse Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti Lasciate già da subito un bel pollicione verso l'alto poi arriviamo ad arrivare a 500 Mi farebbe davvero molto piacere e godetevi il video Bella a tutti ragazzi sono Medino e bentornati qua sul mio canale con questo nuovo video ragazzi Siamo tornati in live su Black Ops 2 ragazzi Sto usando l'N94 e oggi sono qua ragazzi Più che per fare un live che vabbè farò e proverò a fare bene ovviamente Per parlarvi un po' di una cosa di cui mi sono reso conto praticamente pochi giorni fa E che mi ha fatto sotto un certo punto di vista sorridere sotto l'altro rimanerci anche un po' male Ecco allora la cosa di cui vi volevo parlare oggi è il fatto che mi sono reso conto E mi sono reso conto davvero poco tempo fa Ma che camper! È fermo alla partenza madonna Brutta partenza 3-2 Magari speriamo che gli altri entrino perché siamo 4 contro 2 vabbè Mi sono reso conto che Black Ops 2 ragazzi Che è il gioco che è la colonna portante del mio canale Cioè a cui gioco praticamente da sempre E che ho sempre portato sul canale È uscito la bellezza Siamo 6 contro 4 che palle di 5 anni fa Questa cosa mi ha fatto rabbrividire perché Giocandoci, giocandoci sempre praticamente ogni giorno portandoci video Non ti rendi conto di quanto il tempo effettivamente Stia passando per questo gioco Perché ragazzi Pensateci un attimo Io sono passati 5 anni E Black Ops 2 continua a essere sul mio canale Il gioco con riscontro Più positivo E questa qua è una cosa davvero Cioè strana ma allo stesso tempo bella Perché vuol dire che è un gioco che è piaciuto così tanto Ma vabbè Da dietro da dove che c'erano tutti i miei compagni Che anche a distanza di tempo Continua a piacere E questa è una cosa che mi è piaciuta davvero tanto D'altro canto invece Cioè rendersi conto di quanto tempo sia passato Madonna Dalla prima volta che acquistai il gioco Dalla prima volta che ci giocai Di quante cose ho fatto Cioè l'ho comprato Che non avevo neanche la minima idea Di come si registrasse uno schermo E adesso vi ci porto video quotidianamente 56.000 iscritti Cioè quindi di strada su questo gioco Ne ho fatta davvero tantissima Su questo gioco E anche grazie a questo gioco Ancora sto brevil qua Madonna santa che fastidio Sempre lui mi ammazza Quindi diciamo che è stata una cosa Boh Che mi ha fatto anche un po' Riflettere Madonna Stà partita mi sta facendo incazzare Mi ha fatto anche un po' riflettere Perché Dici cazzo come passa Il tempo E quindi Boh Oddio Quanti cavolo sono Sono tutti intorno a me Che palle Via Non sapevo da Vorrei continuare a parlare Ma sono troppo concentrato C'è troppa gente Quante cazzo di kill sto facendo Ok E mi sono Reso conto di questo Davvero Bellissimo Ma allo stesso tempo Anche un po' Strano Non triste È strano Semplicemente strano C'è una cosa che Te fai sempre Ti rendi conto con me È cinque anni che la fai E anche questo fatto Che Dopo cinque anni La gente Si è ancora gasata A vedere I miei video Guarda questo Fermo allo spawn I miei video Di un gioco Che palle Sono rimasti in tre È proprio questo Che chiamo le streaks No Di un gioco Che è uscito Tanto tempo fa Vuol dire che la gente È appassionata a te E allo stesso tempo È appassionata anche Al gioco che porti Perché sennò Sicuramente uno Non si metterebbe A vedere i miei video Di un gioco Cioè non dico vecchio Ma su cui di per sé Tutto ormai È stato più o meno fatto Questo più che altro Ok Qua me la sono giocata bene Dai andiamo a concludere Per questa partita Che sta finendo Pian pianino Poi cazzo Potevo quasi fare il nuclear Se non mi avesse ammazzato Il tipo Come tempi Ci sarei quasi stato UAV Qua dietro ce n'è uno Bravo drone di scorta Poi alla fine La partita È stata veloce Ma Una bella Rapida Intensa Ma è piaciuta 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 Grazie drone di scorta Che mi prende quello Anche nella casa Che gas Oh Madonna Non moriva 46 Bene 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 Andiamo a fare L'ultimo paio di kills Se il compagno Non me li rubasse Magari E quindi raga Cinque anni Sono già passati Il gioco che non muore Mai insomma Finita qua raga 42 6 Ma è stata davvero Brevissima Quindi direi Di trovarci subito Dentro con una seconda Partita E vediamo se riesco A gasare un risultato Ancora migliore Per questo Spero che abbiate Comunque capito Il discorso Il mio discorso Il mio ragionamento Più che altro Non so Se è così fa Che culo Se è così facile Trasmettere Ciò che volevo Trasmettervi Con un video del genere Cioè non volevo Farvi piangere O farvi prendere male Volevo semplicemente Che vi rendesse conto Perché di per sé Una cosa a cui Non ci si pensa Midino porta sempre Black Ops 2 Esce Black Ops 2 Ma da quanto realmente È che Midino porta Black Ops 2 Io non lo porto Da cinque anni Lo porto più o meno Da quattro Però pensare Che un gioco Sia da così Tanto che culo Tempo Che lo tratto Da pensare È spettacolare Cioè almeno io Pensarlo Mi piace Pensarci Ecco È proprio Una cosa bella Ok Siamo partiti bene 8-0 9 kills Alla squadra Cioè Siamo partiti proprio Col cazzo In tiro Precisione No eh Precisione numero 2 Visat C4 Madonna raga Che cattivi Vai in mezzo Come cazzo L'ho preso Che culo Madonna Stavo già Per mettermi a piangere No vabbè Il cecchino Che entra solo A rompere Il cazzo E mi ammazza Così mi fa incazzare Con la nebbia Davanti Mi dà un colpo Ci è entrato Solo per ammazzarmi Che peso Sempre detto Che i cecchini Cagano il cazzo Madonna Ma muori Sto facendo una partita Così bella Ero anche in serie Per il nuclear Entra il cecchino Vabbè Che non è che posso Dirgli E non mi ammazzare Però Che fastidio Ma che cazzo Stanno facendo Ma oddio Santo Facciamo così Quanti sono Grazie che sei venuto Dalla mia parte Se mi lascia L'uno contro uno Madonna Che paura Tutta sta gente Mi ha fatto venire Un'ansia Proprio Puttana State un attimo Calmi Che qua Mi prendo un infarto Sono a 25 E noi siamo solo a 35 Vica male Fammi Stavo per dire Fammi Sventare l'infiltrazione Tattica Prima che questo Venga a rompermi I coglioni Ma è rinato Dietro Ma è rinato Dietro Di nuovo Che due Coglioni 28-2 E anche poi Lo sai Lo vedi Cioè Visat Contra Tutto Non è che Sta in lobby Dai Solo per rompermi I coglioni Invece lui sta in lobby Solo per rompermi I coglioni Cioè Fa bene Non posso dirgli Niente Però Diciamo che mi dispiace Un po' Venirti sull'infiltrazione Tattica Ad ammazzarti Che palle La flashbang Ad orna di scorta Continua la nostra partita Che sta venendo bene Sarebbe piaciuto fare Un po' meno morti Magari addirittura Flawless Non muore Non muore Ma ha preso la N E non moriva Che palle Sto Visat Puttanega Ma come assist Devo muovermi Altra gente Scappa scappa Dove sono tutti Dai io sono gasato Per fare un casino Di kills adesso Cecchino Tutti intorno Altro Visat Tre Visat In un deathmatch Questa cosa è buona Che bello Altro drone Drone non disponibile Perché c'è già Quello vecchio Sì però drone Se stai dentro Almeno devi farmi Le kills Dei farmi Gli sfracelli Se stai a rompermi Le balle Va via Chiamiamo il drone Nuovo Finita 47.4 Due partite Una più bella Dell'altra Io ragazzi Spero davvero tanto Che questo video Possa esservi piaciuto Se è così Mi raccomando Le accetto Un bel pollicione Verso l'alto Un commento Se non lo siete ancora Iscrivetevi al mio canale Che fa sempre molto piacere Noi ragazzi Ci troviamo domani Con un nuovo video Per oggi Damminino è tutto E bella Grazie a tutti